Una ricerca condotta dal Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione dell'Istituto di Ricerca Neuromed di Pozzilli in collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Dermopatico dell'Immacolata di Roma mostra come il caffè, se consumato più di tre volte al giorno, abbassa il rischio di ammalarsi di cancro alla prostata. Un dato sull'azione antitumorale della bevanda confermato anche in laboratorio. Lo studio punta a fare chiarezza in un campo fino ad oggi ancora molto dibattuto. Negli anni recenti sono stati condotti diversi studi a livello internazionale, spiega George Pounis, ricercatore greco del Neuromed e primo autore del lavoro, ma le evidenze scientifiche disponibili erano considerate insufficienti per trarre conclusioni e in alcuni casi i risultati apparivano contraddittori. Per quattro anni sono stati osservati 7.000 uomini molisani partecipanti allo studio, analizzando le abitudini relative al consumo di caffè e mettendoli a confronto con i casi di cancro alla prostata, che si sono verificati nel corso del tempo, è stata evidenziata una netta riduzione del rischio, il 53%, per i bevitori di più di tre tazzine al giorno. I ricercatori hanno così testato l'azione di estratti di caffè su cellule tumorali prostatiche coltivate in laboratorio. Gli estratti contenenti caffeina hanno mostrato la capacità di ridurre la proliferazione delle cellule cancerose e la loro capacità di metastatizzare, un effetto che in larga parte scompare con il decaffeinato. Dobbiamo tenere presente, commenta Alicia Iacoviello, capo del laboratorio di epidemiologia molecolare nutrizionale, che lo studio riguarda una popolazione del Molise, che quindi beve caffè rigorosamente preparato all'italiana, cioè con alta pressione e temperatura dell'acqua molto elevata e senza l'uso di filtri. Questo metodo, diverso da quelli seguiti in altre aree del mondo, potrebbe determinare una maggiore concentrazione di sostanze bioattive.